Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. Chiedono di poter adottare regole meno stringenti e rapportare contagi locali da coronavirus. I presidenti delle regioni governate dal centrodestra, tra cui c'è l'Abruzzo, scrivono al capo dello Stato Sergio Mattarella. La lettera, oltre che al Presidente della Repubblica, è stata inviata anche al Premier Conte, alle Camere e al Ministro per gli Affari Regionali. Boccia dai presidenti, tutti del centrodestra, di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise e da quello della provincia autonoma di Trento. Pare assolutamente necessario, scrivono, che l'attuale struttura del DPCM 26 aprile 2020, imperniato su regole previste rigidamente in funzione della sola tipologia di attività economica svolta e con la possibilità di adottare nelle singole regioni solamente misure più restrittive, venga riformata perché non dotata della necessaria flessibilità capace di riconoscere alle regioni, laddove la situazione epidemiologica risulti migliorate, modelli previsionali di contagio in sostenuta decrescita, la possibilità di applicare nel loro territorio regionale regole meno stringenti di quelle previste a livello nazionale, con una compressione delle libertà costituzionali strettamente proporzionata all'esigenza di tutela della salute collettiva. La giunta regionale ha provveduto a definire l'entità del contributo relativo al bonus famiglia. Le domande pervenute alla scadenza del bando sono state oltre 19.000. Secondo la regione questo alto numero ha evidenziato che la misura predisposta è stata in grado di intercettare le reali necessità della popolazione abruzzese, caratterizzata purtroppo da un gran numero di famiglie in grave stato di difficoltà economica. Rispetto ai criteri stabiliti, la giunta ha deciso di attribuire il massimo del contributo, 1000 euro, alle prime due fasce di priorità, nuclei familiari con persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza e nuclei familiari con almeno tre figli o altre persone a carico. Poi si provvederà, in base alle economie restanti, a finanziare anche la terza fascia di priorità, cioè le famiglie con due figli a carico, fino ad esaurimento del fondo assegnato, che in tutto ammonta 5 milioni di euro. Sono circa 3.000 le famiglie che beneficeranno del bonus. La protezione civile abruzzese avverte che sul web sta circolando una notizia falsa relativa alla distribuzione di mascherine contro il coronavirus. Il responsabile della protezione civile, Silvio Liberatore, ha emesso questo comunicato di smentita. Con il presente comunicato si procede a formale smentita, scrive della seguente notizia diffusa dai media. Come da nota informativa pervenuta da Confindustria Teramo, si comunica, questa la falsa notizia, che nell'ambito dell'emergenza Covid-19 è possibile fornire mascherine ad imprese attualmente in attività che ne siano sprovviste compatibilmente con la disponibilità e tenendo conto di specifiche priorità. Il contenuto rappresentato, scrive il responsabile della protezione civile Abruzzo, è falso e non proveniente dalla protezione civile regionale. Per fornire una corretta informazione a cittadini e denti interessati, la stessa protezione civile invece comunica che con decreto del Presidente della Giunta regionale numero 105 del 24 aprile, sono stati adottati criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale, in base ai DPCM in vigore e agli interessi ritenuti rilevanti in materia di difficoltà di reperimento sul mercato. Le mascherine, quindi, vengono assegnate secondo i contenuti di questo decreto e pertanto si invita a seguirne le direttive, evitando di intasare i canali di comunicazione della protezione civile regionale impegnati a gestire l'emergenza. E a proposito di mosse ufficiali da parte della Regione Abruzzo, c'è da dire che il Presidente Marsilio ne ha annunciata una con cui potrebbe, nelle prossime ore, vietare l'arrivo in Abruzzo, o perlomeno prevedere la quarantena per chi arriva in Abruzzo da altre regioni e questo a seguito delle notizie sul tutto esaurito nei treni in partenza dal Nord Italia a partire dal prossimo fine settimana o comunque dalla prossima settimana per il previsto allentamento delle restrizioni legate al coronavirus. Oltre 40 persone, tra anziani e operatori sanitari, sono risultati positivi al Covid-19 in una casa di riposo bruzzese della ASL di Lanciano Vasto Chieti. Lo hanno rilevato i carabinieri del NAS che in questi giorni stanno effettuando una serie di sopralluoghi nelle strutture per anziani di tutta Italia. I NAS di Pescara stanno collaborando con la ASL Lanciano Vasto Chieti in un'indagine epidemiologica che ha l'obiettivo proprio di verificare e circoscrivere la presenza del virus nell'ambito dell'operazione in Abruzzo. I militari hanno quindi segnalato all'autorità amministrativa la titolare della casa di riposo dove le 40 persone, tra ospiti e operatori sanitari, sono risultate positive al SARS-CoV-2. Con una delibera di giunta abbiamo avviato e delineato con uno specifico atto e diversi passaggi procedurali e temporali per arrivare quanto prima alla definitiva fusione per incorporazione tra Fira S.P.A., Unipersonale e Abruzzo Sviluppo, il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla Regione. Lo annuncia l'assessore regionale alle attività produttive Febbo aggiungendo questo progetto, oltre a far rispermiare alla Regione 200.000 euro l'anno su costi di gestione, doterà finalmente l'Abruzzo di un nuovo ed unico strumento più efficiente e competitivo in grado di svolgere attività significativamente funzionali per il sistema produttivo regionale attraverso una vera e propria e efficiente agenzia di sviluppo che di fatto diventa la banca della stessa Regione. Infatti, la nuova realtà societaria deve essere, tra le varie competenze, in grado di esercitare autentiche funzioni bancarie, con il fine ultimo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi, soprattutto in considerazione della carenza di istituti di credito locali che in passato hanno ricoperto un ruolo centrale e una garanzia per l'accesso al credito. Adesso le due società dovranno approvare, nei termini stabiliti dalla legge, i rispettivi bilanci di esercizio 2019 per poi procedere con l'iter civilisticamente previsto per tale tipo di operazione. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2.923 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'Istituto Zoo Profilattico di Teramo e dell'Università di Chieti. Rispetto a due giorni fa, ieri si è registrato un aumento di 24 casi su un totale di 1.187 tamponi analizzati, con una percentuale del 2% di positivi sul totale dei tamponi analizzati. Nella giornata dell'altro ieri, i positivi erano stati 25 su un totale di 823 tamponi, con una percentuale del 3%. 309 pazienti, meno 3 rispetto a due giorni fa, ieri risultavano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 41 in provincia di L'Aquila, 103 in provincia di Chieti, 124 in provincia di Pescara e 41 nel Teramano, 19, 2 in meno rispetto all'altro ieri. Erano invece in terapia intensiva, 5 in provincia di L'Aquila, 4 nel Chietino, 4 in provincia di Pescara e 6 nel Teramano, mentre gli altri 1.648, 9 in meno rispetto a due giorni fa, erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 91 nell'Aquilano, 493 in provincia di Chieti, 789 nel Pescarese e 275 nel Teramano. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 315 pazienti, purtroppo finora deceduti, 5 in più rispetto all'altro ieri. I nuovi decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata ieri, riguardano tra gli altri un 87enne e un 64enne di Pescara e un 86enne di Francavilla al Mare. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, perché si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse. 632 sono invece i pazienti guariti, 33 in più rispetto a due giorni fa, di cui 212 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 420 che hanno risolto i sintomi dell'infezione, risultando negativi in due test di seguito. Gli abruzzesi che sceglieranno di utilizzare il trasporto pubblico si troveranno di fronte a una condizione oggettivamente diversa rispetto al passato. Ci vorrà resilienza nella nuova condizione. Sugli autobus si salirà in non più di 12 persone su una capienza di 50 posti. Tutti i passeggeri dovranno avere i dispositivi di sicurezza personale, quindi far uso anche di gel disinfettante collocato a bordo del mezzo. Senza contare l'affollamento prevedibile nei punti di ritrovo per superare il quale potrebbe essere necessaria la prenotazione obbligatoria mediante app. Lo dice il presidente di TUA, Giuliante, spiegando che il trasporto pubblico si prepara alla ripartenza. Per Giuliante servirà grande collaborazione tra tutti i presidi territoriali e tra le organizzazioni verso cui il trasporto pubblico si rivolge. Inutile dire che servirà anche una certa dose di soluzioni creative, e quindi la rimodulazione del trasporto potrebbe prevedere corsi a chiamata o express o da un punto all'altro. Resta anche il problema dei controlli sui passeggeri. Oggi è mercoledì 29 aprile, la Chiesa celebra la memoria facoltativa di San Pio V, Papa. Ricordiamo gli appuntamenti religiosi sulle nostre frequenze. Alle 7 la messa con Papa Francesco, alle 12.03 quella con il nostro direttore Don Remo Chioditti, e alle 19 quella dal Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma. Il Santo Rosario invece alle 11.30, 17.03 e 22.30. Questi numeri dei centri operativi comunali di Pescara, 085-4283-400, e Montesilvano, 800-942222. Due numeri da chiamare se siete anziani o malati e vivete da soli in casa e avete bisogno di spesa o farmaci. Siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fino a metà mattino, coperto in tarda mattinata nelle ore centrali, sereno nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio, nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 15 a 21 gradi e 20 deboli e nelle zone interne, cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, coperto in tarda mattinata nelle ore centrali, sereno nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio, nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 15 a 22 gradi e 20 da deboli e moderati. Domani si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali, è coperto nel resto della giornata con temperature da 18 a 24 gradi e 20 da deboli e moderati. Nelle zone interne, cielo coperto fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali, è coperto nel resto della giornata con temperature da 16 a 22 gradi e 20 da deboli e moderati. Il mare è previsto poco mosso sia oggi che domani. È tutto, grazie per averci seguito e risentirci. Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.